Era la nostra partita di sordio, ci tenevamo a far bene, ci tenevamo soprattutto a far risultato, sapevamo che era una partita molto difficile perché il Perugia è una grande squadra, ha un grande pubblico, gioca in un grande stadio e quindi evidentemente sapevamo di poter correre il rischio di perderla. Secondo me la prestazione l'abbiamo fatta, abbiamo provato a fare la nostra partita, abbiamo fatto un buon pressing nella metà campo del Perugia spesso, possiamo far meglio sicuramente in fase di possesso palla, soprattutto in fase di impostazione sappiamo far meglio, però abbiamo avuto delle reazioni importanti anche dopo i gol subiti, la squadra è sempre stata viva, è sempre stata in partita, ha avuto qualche buona situazione, non ne abbiamo concesse tantissime al Perugia ed è un merito perché il Perugia è un attacco importante, però abbiamo commesso delle gravissime ingenuità, gravissime ingenuità che hanno determinato il risultato, soprattutto quella del primo tempo perché non puoi prendere il gol a due minuti dal riposo, quello è stato accondizionato un po' anche il nostro secondo tempo, non puoi perdere una palla così sanguinosa in uscita e soprattutto non si possono prendere gol su palla inattiva e anche su seconda palla in seguito a una palla inattiva, sono situazioni abbastanza leggibili su cui noi abbiamo fatto male, mi assumo la mia responsabilità e dovremo crescere velocemente perché poi queste partite spesso si risolvono in questo modo, quindi questo è il mio rammarico per la partita perché ripeto sono soddisfatto della mentalità e della prestazione della squadra ma chiaramente abbiamo fatto cose abbastanza gravi che hanno determinato il risultato.